Pronto? Sì, salve. Giornalaio? Sì, giornalato? Sì, salve. Le volevo chiedere, è uscito Tex? Ok, ma mi sa dire quando torna? Va bene, chiamo più tardi, grazie, ciao, ciao. Tex è uscito. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lascia un like e condividi e abbonati alla soffitta di Pippo per sostenere il canale e avere accesso a tutti i miei contenuti, anche quelli che non si vedono pubblicamente. Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui sulla soffitta di Pippo. Ciao.